Dovrà essere sottoposta a un delicato intervento per recuperare l'uso della gamba la 23enne che è stata colpita per sbaglio venerdì sera a Castellammare di Stabbia dai proiettili esplosi davanti a una pizzeria. Il bersaglio dell'agguato Giovanni De Pascale, 19 anni, con piccoli precedenti, aveva capito subito che i proiettili erano per lui ed ha chiamato la polizia. Gli spari a pochi passi dal comune e a poche ore dall'allarme lanciato dal ministro Orlando sull'assenza del tema camorra dall'agenda della politica. Il comune di Castellammare infatti è stato sciolto per infiltrazioni e il commissario prefettizio, nominato appena lo scorso febbraio, Raffaele Cannizzaro, ha chiesto ora un incontro urgente al prefetto di Napoli per ottenere un rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine. Ma l'emergenza criminale interessa tutto l'Interland napoletano, a Qualiano un'altra sparatoria in cui sono rimaste ferite per sbaglio due persone che ora sono gravi in ospedale. Un 37enne ha prima rubato la pistola a una guardia giurata minacciandola con un coltello, poi in sella a una bicce elettrica ha fatto fuoco contro alcuni ragazzi fermi davanti a un bar. Quattro i giovani colpiti, due sono in prognosi riservata e in pericolo di vita. Uno è stato dimesso, l'altro ha subito un intervento chirurgico e rimane in osservazione. Secondo una prima ipotesi l'episodio sarebbe collegato a una lite che l'uomo avrebbe avuto nei giorni scorsi, proprio con quel gruppo di giovani. La sparatoria è avvenuta al bar Nirvana Sprizzi, in via Fratelli Rosselli, a pochi minuti dalla mezzanotte. I carabinieri della sezione operativa di Giuliano, insieme a quelli della stazione di Qualiano, hanno rintracciato l'uomo questa mattina, intorno alle 6.30. Il 37enne Marco Bevilacqua è di torre annunziata ed era già noto alle forze dell'ordine, a precedenti per reati di droga, rapina e distorsione.